Dottor Mazzoli, perché è così importante che gli ambiti territoriali abbiano uniformità di regole alle quali attenersi? Per varie ragioni. La prima sicuramente perché il giocatore compulsivo migra, gira. Quando facciamo il corso di formazione agli esercenti, cosa che abbiamo attivato anche su fondi regionali l'anno scorso e porteremo avanti anche quest'anno, l'obiezione più grande che facevano i gestori è che io posso anche eliminare la macchinetta, ma questo non elimina il fenomeno perché lui va al bar vicino. E anche se il bar vicino è chiuso e via così. Quindi una politica e una norma che veda un'omogeneità sul territorio il più vasto possibile è sicuramente più efficace. Qual è il demone peggiore? Macchinette, giochi? Qual è il demone del nostro secolo? Su circa 95 miliardi di gettito annuale nel 2017, quasi il 70% è rappresentato dal gettito di gioco derivante dal slot OVLT, cioè dalle cosiddette macchinette che noi troviamo nei bar, troviamo nelle sale giochi. Il resto, grattini, circa il 7-8% e il rimanente da tutte le altre forme di gioco, di lotteria. L'online stesso non drena molti denari, quindi il giocatore preferisce utilizzare la macchinetta, avere il contatto materiale con questa cosa. Poi lo stesso giocatore, oltre a usare la macchinetta in vivo, utilizza in virtuale l'online o tante altre forme. Uno dei nostri pazienti più interessanti, molto sfortunato perché era gestore di una sala giochi, per cui aveva un gettito di denaro a disposizione che investiva, tra virgolette, nel suo gioco personale.